L'Italia dei Valori è una formazione politica che in questi anni ha saputo fare opposizione e protesta e con senso di responsabilità oggi vuole assumersi la responsabilità all'interno di una coalizione, di una proposta politica. Chiunque voglia e abbia qualcosa di politicamente responsabile da proporre è il nostro alleato, purché abbia voglia di allearsi e non solo di sfasciare. C'è una doppia risposta politica dei cittadini. Primo, non vanno a votare perché non hanno più fiducia in questa classe politica nel suo insieme. Secondo, una speranza, l'hanno riposta e lo ripongono in una coalizione di centro-sinistra il più allargato possibile, perché laddove ci siamo presentati Stati Uniti abbiamo anche vinto. Laddove il Partito Democratico ha voluto fare da solo, come a Palermo o a Parma, è stato sconfitto. Per questa ragione rilanciamo noi dell'Italia dei Valori un'alleanza riformista attenta alla questione sociale, attenta al lavoro, come dice Bersani, ma attenta soprattutto alla giustizia sociale. In questo senso una prospettiva per cinque anni di governo politico attenta a tutti i cittadini c'è, purché la si vuole e noi la vogliamo. Io temo molto che questo Parlamento, con queste persone che stanno in Parlamento, con una quota così importante di inquisiti, avvocati di inquisiti e personaggi in cerca d'autore, difficilmente sia in grado di fare una buona legge elettorale, una buona legge sul finanziamento pubblico ai partiti e una buona riforma. Per questo prima si va alle elezioni, prima si munisce il Parlamento di una classe politica più degna del ruolo e delle funzioni che ha, prima si consegna al Paese un governo politico che metta al primo posto una maggiore uguaglianza sociale, meglio è. E per questo noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto la nostra proposta politica. Grazie a tutti.